Per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio, siede su Notizia Non Click qui con me e Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Parafulmini, il nuovo brano di Kimono, Google antitrust avvia un'istruttoria. Traffico, i giorni di luglio da bollino rosso sulle strade ed autostrade, tutte le previsioni. Bambina, il nuovo singolo di Stefano Virga. Totti, inchiesta Liguria, misura cautelare ai domiciliari per il finanziamento illecito. Amazon affida il suo settore alle finanze dell'intelligenza artificiale. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con noi e io vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna. Loredana